Mi pare che lei abbia fatto ora un film su Poppea. Sì, ho fatto un film, la Poppea, Imperatrice Romana, da protagonista, un film bellissimo che è uscì in settembre, è La moglie di Nerone. Sì, vietato ai minori? No. Ah no? No. Quindi ha fatto il bagno nel latte? Sì, ho fatto il bagno nel latte d'asina originale. Che di asina, insomma si fa per dire, dico, sarà stato un latte così di mucca? No, no, è stato latte dell'asina, i veri, che hanno raccolto e che hanno munto in tutti i paesini vicino Roma. Ma davvero? Sì, e hanno messo in una piscina enorme. Ma pensa in teorecista che esigenza! Sì, sì, un latte che si applicava tutto sulla pelle, che aveva un odore speciale, però per la bellezza. Un odore aggravevole o sgravevole? Sì, ma voglio dire, ma a che fine... Non deve essere molto piacevole. No, ma sul piano cinematografico, a che fine, dico, l'odore? Dico, non è ancora inventato il cinema odoroso. Ma così un attore si sente veramente... Che effetto fa? Questa bellezza. Un po' appiccicaticcio? Sì, appiccicaticcio, però fa poi una pelle bellissima. Infatti. Sì.